Trenitalia aveva avvertito i passeggeri lo sciopero di sabato e domenica potrebbe avere un impatto significativo, aveva detto, sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali o parziali di frecce, intercity e treni regionali. Una previsione quanto mai azzeccata quando alle 21 di ieri si leggevano sui tabelloni riepilogativi degli arrivi e delle partenze le cancellazioni patite in conseguenza dell'astensione dei lavoratori. Almeno un viaggio su tre è stato cancellato. Lo sciopero di 24 ore, proclamato da CUB Trasporti, SGB e USB, sindacati di base, ha quindi costretto viaggiatori e lavoratori all'utilizzo delle auto private, oppure a lunga attese sui binari seguite da rincorse frenetiche per cercare di prendere treni alternativi. La domenica mattina non sono arrivate alla stazione di Porta Nuova treni intercity da Roma e Milano. Cancellazioni e ritardi anche per i treni diretti dal Piemonte in Liguria. Forti disagi nel Cunese sulla linea per Ventimiglia, disagi che si sono protratti fino a sera con treni e passeggeri pronti sul binario ma partenze spesso in ritardo o cancellate.